Il Città di Castello è tornato alla vittoria e lo ha fatto con un poker rifilato ai danni del Monte Spaccato. Al momentaneo vantaggio ospite siglato dalle classi 2003 Vitelli, hanno risposto il 2004 Grassi e il 2003 Rossitto prima della doppiata di Doratiotto che nel finale ha chiuso il match. La formazione di Alessandria ha ritrovato un successo che mancava da tre partite, prosegue invece la striscia negativa dei Laziali che hanno raccolto soltanto tre punti nelle ultime sei gare. Il primo squillo della partita lo suona il Città di Castello con Calderini che al settimo sulle lancio di Terzini fa partire questo sinistro che si stampa sul palo. Al ventunesimo il Monte Spaccato passa in vantaggio con Vitelli che sfrutta la sponda di Cali e con uno destro potente e preciso trafici un incolpevole Nannelli per il gol che vale l'1-0. I Tifernati reagiscono al venticinquesimo assist delizioso di trovato e colpo di testa di Calderini alzato in corner da un attento Tassi. I locali continuano a premere e trovano la rete del pareggio al minuto 39 quando Terzini serve Grassi che non ci pensa su due volte e con le sinistro spedisce la palla all'angolino e fa 1-1. Con questo risultato le due squadre rientrano negli spogliatoi al termine del primo tempo. La ripresa si apre con questa pregevole conclusione di Bosi che finisce sul palo alla sinistra di Nannelli. Scampato il pericolo sull'arribaltamento di fronte il Città di Castello passa in vantaggio al 59esimo con il classe 2003 Rossitto bravo ad avventarsi sulla palla vagante e a spedirla sotto la traversa per il gol che vale il 2-1. I locali provano a chiudere la partita con Calderini ma in entrambe le circostanze Tassi dice di no al numero 10 degli Umbri. Al minuto 82 si fa male l'arbitro del match Yuri Gallorini di Arezzo. La partita rimane ferma per 5 minuti con lo staff sanitario delle Città di Castello che interviene per soccorrere il direttore di gara che poi riesce a rientrare in campo con una vistosa fasciatura alla coscia. Il gioco riprende e la formazione di Alessandria cala elettrisse con Doratiotto che imbeccato da Rossitto riesce a battere Tassi portando il punteggio sul 3-1 al minuto 87. Il numero 9 dei Città di Castello si ripete tre minuti più tardi questa volta l'assista di Calderini. Doratiotto controlla di coscia e poi col mancino spedisce la palla alle spalle di Tassi. Doppietta per il classe 99 e gara in archivio. Albernicchi finisce così Città di Castello 4 Montespaccato 1. Grazie a tutti.